La vita è un viaggio che cambia in corsa Evento hollywoodiano e cinematografico in contemporanea con 32 concessionari in tutta Italia Roma, Milano diretta streaming per allettare tutti coloro che dalla nuova GLA attendono tantissimo questa è la presentazione che Mercedes Benzitalia ha riservato per questo crossover di nuovissima generazione questo insieme alla musica di Giorgia, di Giuliano Palma e di Saturnino insieme per tutti quanti coloro che la vogliono scoprire scoprendo nella dinamicità e il nuovo ritmo griffato Mercedes Benz e noi ve la svegliamo in questo format unico che Barbuccia S.P.A. di Pescara ci vuole presentare così cominciando con la GLA a girare con noi eccoci qua presentazione della nuova GLA all'interno di questo Mercedes Barbuccia S.P.A. è un evento contemporaneo nelle 32 concessionari d'Italia in streaming la Mercedes ha veramente strutturato uno show e qui abbiamo un piccolo format ricreato che cosa attende il mercato da questa Mercedes e da questa GLA che riuscirà a soddisfare? Signor Piero Barbuccia siccome la vita è un film che cambia strada facendo su questo light motive praticamente la Mercedes ha voluto interpretare la moda del momento e quindi cambia insieme alle necessità e ai gusti del suo pubblico anzi con la GLA ha voluto incontrare il gusto di un pubblico nuovo per Mercedes quindi più giovane più dinamico e quindi lo spirito di questa nuova vettura interpreta proprio il cambiamento in corsa e quindi è una nuova icona che mettiamo nel firmamento a disposizione di un pubblico che questa sera ha veramente gradito assai questo format praticamente è una vettura che interpreta molto le esigenze di gusto femminile ma non solo il fatto stesso di essere stata pensata per essere sia due che quattro ruote motrici parla abbastanza chiaro di conseguenza non c'è un target predefinito in termini diciamo di sesso ma in termini di utilizzo e di stile di vita quindi sia l'uomo nuovo cliente Mercedes che la donna nuova cliente Mercedes sicuramente apprezzerà le forme lo stile il contenuto tecnico e un po' la personalità nuova di questa vettura Fabio Serra siamo all'interno della Barbuccia SPA anche qui ricreato un format perfetto per accogliere questa nuovissima che cos'ha questo nuovo crossover che rompe tutto il passato per entrare in un presente in maniera davvero irruente ha una splendida serata in compagnia di tanti clienti e amici qui insieme a noi alla Barbuccia per dare un nuovo slogan un pochino alla Mercedes dove diciamo la vita è un viaggio che cambia in corsa con questo Mercedes ha voluto dare proprio vita a questa nuova vettura a questo nuovo crossover una nuova linea per Mercedes mai avuta una linea sicuramente più sportiva più elegante ma anche più accattivante entriamo nel tecnico e anche nell'estetico progresso e tradizione in un unico mix questo corrisponde tecnicamente a cosa nella GLA? assolutamente come abbiamo sempre detto è un crossover quindi una macchina sicuramente più alta da terra ed è una macchina anche sportiva adatta a tutte a tutte le condizioni climatiche anche perché è disponibile una versione 4 lote motrici ma una 4 lote motrici intelligente dove c'è 100% di trazione anteriore ma in caso di bisogno si porterà la trazione su un 50 e 50 disponibile sia in cambio manuale che in cambio automatico il nostro nuovo cambio automatico a 7 rapporti in doppia frizione in anteprima ci saranno i motori diesel il motore 2002 sia da 136 che da 170 cavalli insieme a due motori benzina un 1.6 e un 2.000 Nell'interno dell'abitacolo noi abbiamo sempre i nostri tre allestimenti l'executive la nostra entry level sempre molto sicura sempre molto curata nel particolare poi per gli altri due allestimenti sport e premium con spirito sicuramente più sportivo e più cura nel particolare grandi possibilità di varianti all'interno dell'abitacolo sia con interno in tessuto che in pelle Robby Lights a te il palcoscenico per il DJ set di questo Change the Night che presenta questa nuova GLA Mercedes all'interno della Barbuccia SPA è una macchina sensazionale bellissima e credo che sia veramente per chi cerca il meglio della vita a tutti gli effetti il genere adatto a questa Mercedes GLA per questa serata e per il tuo DJ set sarà pop, dance electro, house funky, disco from New York DJ Robby Lights dice comprate la GLA perché è veramente awesome Alessio Leonzio situazione veramente molto carina perché siamo dietro un concessionario ma veramente ha giustato benissimo e devo fare i complimenti a chi comunque ha organizzato a parte questo aspettiamo veramente con fretta la macchina perché mi sembra una bella macchina auguri la Mercedes a questa nuova questa nuova auto Ania Verrigni prima di tutto ben trovata e soprattutto con gli occhi di una fashion blogger come si può descrivere un'auto protagonista così come è uscita questa sera quando il design e la tecnologia si sposano non può che uscire un prodotto di altissima qualità come quello ovviamente firmato Mercedes-Benz le linee la sinosità che dire io mi immagino questa macchina donna ovviamente posseduta da una donna è stupenda non c'è altro da aggiungere Fabio Urbini la macchina fondamentalmente rappresenta la persona che la porta quindi l'eleganza la classe la robustezza e soprattutto il fatto che è Mercedes dicendo questo non credo ci sia da dire molto comprate perché è comoda è sicura sportiva e soprattutto è per noi venitela a provare capirete da soli cosa vuol dire salire sul nostro crossover e sempre con la nuova GLA dovete continuare a girare con la nuova